Nell'estate 1977 la Juve Campione Italia conferma tutti e compra solo Fanna dall'Atalanta e Virdis dal Cagliari. Il Torre invece conferma tutti e rimantiene perciò la rosa invariata. Il Milan, che passa le quote dal presidente Colombo, acquista dal Monza tre giocatori, Buriani, Tosetto e Antonelli. Mentre l'Inter acquista un giovane Altobelli dal Brescia. Alla prima giornata la Juve Campione d'Italia vince col Foggia per 6-0. Il Milan pareggia il novantesimo con la Fiorentina per 1-1. La Roma batte il rimonto del Toro per 2-1 mentre l'Inter perde in casa del Bologna. Mentre il Napoli vince 3-1 col Pescara per 3-1. Prima Bruzzese in Serie A. La Juve dopo la vittoria per 2-1 al San Paolo contro il Napoli prima pareggia col Milan per 1-1 per poi perdere 3-0 con la Lazio. In tutto ciò ne approfitta Genoa che alla fine della quarta giornata è in testa da solo al campionato con 6 punti su 8 disponibili. Alla quinta giornata però la Juve riacciuffa la vetta in coabitazione con Milano e Genoa grazie alla vittoria per 5-1 con la Fiorentina. Alla stessa giornata al comunale Pian Massian di Perugia la squadra Umbro, ovvero il Perugia, affronta la Juve dove la partita rimarrà impressa nella mente di tutti non per un gesto tecnico ma bensì per la morte di un giocatore Renato Curi. Da lì in poi lo stadio venne chiamato col nome di codesto giocatore dove al minuto 50 si accascia al suolo e il suo cuore ha smesso di battere a solo 24 anni. Tutto questo per una malformazione cardiaca al cuore ma da inossicata sia dai medici che dai familiari. Un grave lutto e non sarà nel primo o nell'ultimo in questa area. La partita comunque continuò come si ditte del show mass gone e finì 0-0. In questa tragica giornata il Milan comunque vince e va in testa al campionato battendo il Foggia per 2-0. La settima giornata c'è subito il banco di prova importante per il Milan che affronta il derby e lo vince per 3-1 con gol di Buriani e va più o due sui torinesi. La Juve pareggia 1-1 con l'Atalanta. Il Milan fa 6 vittorie consecutive, dietro c'è la Juve che ha meno 3 e chiude la classifica invece il Bologna. Il Milan alla decima giornata pareggia col Perugia per 2-2 ma la Juve non approfitta perché pareggia il derby della Mole per 0-0. Una settimana dopo però il Toro vince col Milan 1-0 grazie a gol di Pulici. Mentre la Juve batte a San Siro l'Inter col gol di Tardelli. Perciò Milan ha più 1 sulla Juve e ha più 2 sul Toro ma soprattutto sulla sorprendente Vicenza di Polo Rossi. Alla dodicesima giornata la Juve aggancia il Milan in testa del campionato perché il rossoneri pareggia una Bergamo mentre la Juve vince 1-0 col Bologna. La tordicesima giornata la Juve del Trap si laura campione d'inverno con una giornata d'anticipo vincendo 2-0 con la Roma con il gol di Fanna e Bettica. È la contemporanea sconfitta del Milan contro il Lazio per 2-0 e ai pari del Vicenza per 1-1 e del Toro per 0-0. Il Milan intanto continua il periodo negativo perché perde pure col Napoli e viene raggiunto al secondo posto dal Toro che batte il Verona per 2-1 mentre la Juve però non va oltre lo 0-0 contro il Vicenza. Nella diciassettesima giornata la Juve si ritrova più 4 sulle inseguitrici sempre Milan, Toro e Vicenza ma alla diciottesima giornata il campionato si potrebbe riaprire per vedere i due sconti diretti Milan-Juve e Toro-Vicenza. Ma il distacco della Juve verso chi insegue rimane intatto perché la Juve pareggia 0-0 col Milan mentre il Toro pareggia 2-2 col Vicenza perciò Juve ha 26 mentre Milan-Toro e Vicenza ha 22. Intanto la Juve continua a vincere e quando non lo fa le inseguitrici non approfittano come alla ventiquattesima giornata dove il Genoa pareggia 2-2 con la Juve ma il Toro pareggia in casa col Perugia per 1-1 e il Vicenza pareggia 1-1 con la Roma e ora i bianconeri sono a più 4 sul Toro e a più 5 su Vicenza e Mila. Alla venticinquesima giornata c'è il derby dell'amore, il Toro ferma il campione d'Italia sullo 0-0 mentre il Vicenza vincendo 2-0 col Foggia grazie al gol di Polo Rossi e il Milan batte 1-0 il Perugia col gol di Maldera si portano a meno 4 dai bianconeri insieme al Toro a 5 giornate dalla fine. Alla venticinquesima giornata l'Inter ferma la Juve sul pari 2-2 dove i bianconeri erano andati sotto per 2-2 ma la pareggiano con il gol di Bettiga e Cucuretto mentre Milan-Toro finisce in parità 1-1 e non ne approfittano come anche il Vicenza che addirittura perde 3-2 col Bologna. La settimana dopo la Juve pareggia col Bologna per 2-2 allora il Toro vincendo 1-0 con la Lazio e il Vicenza vincendo 1-0 col Geno si ravvicinano alla vetta mentre non lo fa il Milan perché perde 1-0 con la Tata. La settimana dopo però anche il Toro dice addio alla scorso Scudetto perdendo 2-0 con la Fiorentina per 180 minuti la Juve ha più 4 sul Vicenza. La venticinquesima giornata il Vicenza vince 3-1 col Bologna la seconda del solito Paolo Rossi ma la Juve gli basta un pari per vincere Scudetto e così è finisce 1-1 con la Roma. Al gol di Bartolome risponde Bettega e perciò per la diciottesima volta la squadra bianconera vince lo Scudetto e sono campioni d'Italia per il secondo anno consecutivo con 90 minuti d'anticipo. In serie B vanno Pescara, Foggia e Genoa. Fiorentina salvo grazie alla differenza reti mentre in Coppa delle Fiere vanno Vicenza, Toro, Milan e Napoli. Capo canonieri Paolo Rossi con 24 gol. Nel campionato 1977-78 debuttano in hub Franco Baresi, Giovanni Galli e Pietro Paolo Virdis mentre lasciano il calcio Facchetti, Nicolai e Bertini. Capo canonieri Paolo Rossi con 24 gol. Capo canonieri Paolo Rossi con 24 gol. Capo canonieri Paolo Rossi con 24 gol. Capo canonieri Paolo Rossi con 24 gol.